La sua prima Martinella da sindaca in un giorno importantissimo per la storia di Firenze. Quali sono le vostre emozioni? Devo dire che oggi le emozioni sono indescrivibili. La prima Martinella di una sindaca donna in un anniversario importantissimo per gli 80 anni della liberazione di Firenze. Per la testa mi passano tante cose, la storia della nostra città, la storia della liberazione della nostra città, storie familiari, storie di tanti cittadini incontrati, ma soprattutto nella mente e nel cuore ho le immagini dei tanti partigiani e delle tanti partigiane che hanno lottato per salvare tante vite dei nostri cittadini.